Prima di tutto noi siamo molto contenti del colloquio che abbiamo avuto col professor Draghi, un colloquio dove lui ha accedato la panoramica della situazione e ci ha fatto capire la natura europeistica che il suo governo, se riuscirà a formarlo, dovrà prendere. L'indirizzo è quello che la City Roll of War e gli autonomisti in generale è la loro posizione e quindi siamo molto contenti di questo. Dall'altra parte ovviamente la questione economica che bisogna mettere in sicurezza l'Italia e lì ci ha dato l'impressione di avere le idee molto chiare e soprattutto di avere una competenza straordinaria di capacità di visione di dove deve andare questo paese e io sono convinto che l'Italia con lui alla guida possa passare bene questa crisi sanitaria, economica, sociale, culturale ed educativa.